E' una modestissima targa, di solito è la nostra unica donna che raffi Ravaggio e che le consegna, ma non essendo presente ti tocca prenderla da Presidente, quindi in questo mi spiace non essere altrettanto interessante. Io chiedo a tutti veramente di salutare con un applauso a Robby Sestini. Ti ringrazio molto, grazie per questa, guarda, ti voglio anche una fotografia? Grazie, vuoi dire due parole? Già ho dato troppo, grazie mille, grazie. Bene, e con questo riconoscimento io ringrazio moltissimo Ingegner Vergine e tutti voi per essere stati qui con noi. Grazie mille. Scusate, chi ha la prenotazione per la conferenza successiva è pregato di rimanere al suo posto, che passeranno gli ragazzi a controllare la prenotazione, gli altri possono uscire. Grazie. 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 Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.